Manca solo l'ufficialità, il nero su bianco, ma Gianni Paris la prossima settimana diventerà dirigente della San Benedettese acquisendo il 25% delle quote del gruppo Fedeli. Lunedì prossimo sarò nella sede dell'elite del patron di Franco Fedeli, parleremo di questo e poi da lì a qualche giorno andremo a definire formalmente dinanzi ad un notaio l'acquisizione nella misura che hai detto tu. Come mai la decisione è di entrare nella società marchigiana? Perché credo che sia nel centro Italia una delle poche piazze dove si può aspirare a fare il grande calcio e sono convinto che insieme al Presidente si possa raggiungere un obiettivo che i San Benedettese aspettano da troppi anni e quindi siccome è una piazza vera merita quel rispetto e quella intensità nell'organizzare l'azienda calcio che spero di poter contribuire a fare dalla settimana prossima in poi. Fedeli nei giorni scorsi aveva annunciato di voler lasciare la società, non sarà quindi così? Continuerà con Gianni Paris al fianco? Beh, non sarà così perché continuerà con un manager del calcio con l'esperienza nell'Avezzano novennale credo di aver imparato qualcosa e soprattutto spero di fare meno errori possibili sia nella comunicazione che nella scelta delle persone che saranno al fianco mio e del Presidente. Sarà Capaldi il nuovo direttore generale della San Benedettese? Presto dirlo, parlerò con Fedeli delle varie figure che potranno essere utili a far crescere la San Benedettese e a fare sicuramente meglio della stagione appena conclusa. Gianni Paris guarda al futuro ma facciamo un passo indietro, pochi giorni fa si è chiuso il campionato di Serie D con la salvezza dell'Avezzano, una soddisfazione anche per l'ex Presidente Paris. Sì, contentissimo perché è stata una cosa mia ripresa dalla prima e portata quattro categorie su quindi sono contento che siano riusciti a salvarsi, adesso dovranno programmare bene il campionato prossimo e mi auguro che riescano a trovare punti di equilibrio e soprattutto ad avere un maggior coinvolgimento del popolo marsicano.